vi facciamo vedere anche un pezzetto di questo calcio balillo umano che prevede fra le regole il fatto che i giocatori devono tenere le mani attaccate alla barra, possono colpire la balla solo con i piedi o con la testa ovviamente il pallone del tipo legger grazie la telecronica della partita diciamo è affidata alla mitica Sor Luisa che venete in fondo a questa inquadratura in questo momento ha segnato la squadra di Gielosetti Voi per chi ti fate? Grazie mille Per Gielosetti Per Gielosetti Grazie Ecco Paolo Lentini ha arbitrato qualche partita, il rigore quando scatta? Dopo quattro falli commesi da una squadra Ecco un esempio di fallo, quali sono? Allungarsi o staccare le mani dalla barra o passarsela tra i compagni di stecca Ho capito, quindi questi sono i falli, al quarto errore scatta il rigore Mi hai dato i rigori oggi? Sì, tanti Ok, grazie Paolo, ciao Poloro Pronti per una nuova partita? 15 minuti Ecco abbiamo dimenticato a dire che le partite durano 15 minuti Ecco 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 in questo match si affronteranno via Montagnoli e Corso Bazzoli se non abbiamo capito male Un generale di vent'anni, occhi pulchini, giacca e ruone Un generale di vent'anni, figlio di un temporale C'è un bollaro d'argento sul fondo del sentire E' uncido Herrera che si la... Un italiano arodotto su fondo del causale Un'altra addու C'è un fen'ettmano storico Lo dobbiamo fare Un'altra addenda Un'altra addufactura C'è unanche male, going in un secondo C'è un buonore Non so per me cosa fare, questo è perché, non ho tempo per pensare. I miei dubbi sono tanti e non posso andare avanti, ma ora sono tanta, non aspetto più, mi sveglio ancora qui nel mio mondo. Non so per me cosa fare, questo è perché, non ho tempo per pensare, non ho tempo per pensare, non ho tempo per pensare. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.